Buongiorno, buon sabato mattina, benvenuti a Occhio ai giornali, la rassegna stampa in diretta di Fano TV. 7.30 tutte le mattine, poi in replica fino alle 1.30 e quindi insomma per voi che volete vedere quali sono i titoli principali dei giornali, un'occasione importante della giornata. Guardiamo però prima previsioni del tempo e poi il santo del giorno e quindi vediamo naturalmente com'è e si presenta. Oggi è sabato 18 marzo, San Cirillo di Gerusalemme, il sole è sorto alle 6.14 e tramonterà alle 18.18. Ed eccolo il tempo per questo fine settimana, vediamo, partiamo da oggi, il cielo è poco, parzialmente nuvoloso per il transito di nubi medio-alte, precipitazioni non ce ne sono, assenti temperature in aumento nei valori minimi, quindi anche con venti moderati sud-occidentali e mare poco mosso, nessun fenomeno di particolare rilievo. Vediamo invece come si presenta per domani, anche questo più o meno è un giorno simile al sabato, sereno poco nuvoloso, transito di lievi e velature, precipitazioni assenti, temperature stazionari, venti deboli e mare poco mosso, quindi sostanzialmente due giornate uguali e anche per lunedì, vedete, si presenta nello stesso modo. Cielo sereno, nessuna precipitazione, mare poco mosso, temperature senza variazioni di rilievo, quindi sostanzialmente un fine settimana e un inizio di settimana all'insegna del tempo stabile tendente, naturalmente al bello. Partiamo con i giornali, vi porto nelle pagine del Corriere Adriatico, vediamo subito la prima pagina, la pagina di apertura dell'inserto pesarese, addio ma validi fino al dicembre, stiamo parlando dei voucher e corsa ai voucher, esauriti i tagliandi del lavoro, i presidenti dei tabaccai dice scorte precauzionali, c'è una rincorsa, c'è una rincorsa ai voucher ad accapararseli prima che escano di scena. E poi dall'ex cubo all'intendenza, palazzi vuoti si trasformano, siamo nel centro di Pesero e poi in taglio basso, rotatorie, tocca ai privati e il piano fai da te per il verde e qui siamo a Fano. E poi entreremo nello specifico di queste notizie. Però intanto vi faccio vedere dalla pagina che riguarda le Marche, una notizia del ponte, del ponte che è costato la vita a due signori di Ascoli Piceno, marito e moglie, e si continua a indagare per il crack del ponte, 15 interrogati e crollato mentre lo sollevavano. Gli operai stavano stazionando e azionando i Martinetti e hanno avuto il tempo di allontanarsi da sotto la campata quando hanno sentito appunto lo scricchiolare della struttura. Vedete la foto che ritrae appunto gli attimi tragici di quei momenti e questa, ahimè, è l'auto dei due coniugi. Ancora dalle pagine però entriamo in quelle che riguardano il nostro territorio, la nostra provincia. Siamo a Pesero, appunto dicevamo nel lancio della prima pagina, trasformazione del salotto buono della città. Ricci, vedete, in perlustrazione con gli assessori, ma prima riaprite i contenitori. Città della musica, ok, può aspettare, però bisogna ridare vita a contenitori vuoti edifici che in questo momento non sono attivi e quindi il sindaco incontra i commercianti. Ancora la notizia dei voucher. Veramente ieri ero per prendere un caffè in un bar tabacchi e c'erano persone che veramente staccavano dai 3.000 ai 3.500 euro di voucher. C'è una rincorsa a questa formula di pagamento. Dattori fanno incetta di voucher, carcia agli ultimi tagliandi lavoro. Il presidente dei tabaccai, che vedete qui, Lorenzo Paolini, scorte precauzionali per fronteggiare questa emergenza, questa esigenza che si sta verificando in queste ore. E poi anche ora un caso di perseguitazione, di violenza sulle donne. Stessa spiaggia, stesso mare, stesso incubo però. L'ex perseguita, diventa la sua ombra, perseguita la ex. Un'ossessione durata lunga un anno, tra insulti, minacce e oscenità, finché la donna non denuncia lo stalker ai carabinieri. L'uomo non potrà più avvicinarsi, altrimenti scatterà l'arresto. Questo è il provvedimento. Andiamo a Urbino con il Corriere, la parte di Raffaello, divinissimo brand. Però i 500 anni iniziano dal palco, uno spettacolo anticipa al Raffaello Sanzio, l'anniversario della morte del genio rinascimentale, per celebrare questo grande intepete dell'arte rinascimentale del territorio, della provincia. Fano, con il Corriere Adriatico, si parla appunto di un cambio di look delle rotatorie, lo aveva annunciato a inizio anno, cambio di look per roccatorie. Anche i cittadini potranno dare una mano, chi vuole occuparsi di una roccatoria e naturalmente metterci la sua bandierina, come si dice, lo potrà fare. È partito appunto un bando anche di concorso di idee per i rondò più impegnativi, di quelli che sono un po' all'ingresso della città o in punti strategici, come la stazione davanti a Porta Maggiore. Ecco, in questo articolo troverete tutti i dettagli. Vedete il sindaco all'inaugurazione dell'Interquartieri, appunto a bordo di una Vespa per il giro inaugurale. Ancora da Fano, Sport, i fondi ci sono, anche questa è una controversia che aveva tenuto banco i giorni scorsi, contro piedi di seri il sindaco vede la società e annuncia l'arrivo della seconda rata del 2016. E quindi insomma si mette una stampella su questa vicenda che aveva preoccupato tantissime società, tantissimi sportivi, tantissimi presidenti che lavorano sommessamente per far sì che ci sia una bella attività sportiva nella città di Fano. Valcesano, dalla pagina della Valcesano, loro sono capaci di creare divisioni, tutti quei progetti erano fatti da noi, si parla di politica, l'ex vice sindaco Carloni attacca la giunta e ricorda l'impegno per scogliere e asfalti. Adesso vi faccio vedere una bella immagine, naturalmente per gli amanti della montagna e della neve basta fare pochi chilometri perché guardate qui sul Catria si va ancora in bianco, naturalmente parliamo di sci, stagione da record, piste aperte, oggi e domani chi potrà sciare a 1400 metri è un caso unico in tutta la provincia, guardate che bella foto, questo gatto delle nevi attaccato all'impianto di risalita, lavori in corso oggi e domani per le ultime discese e per gli appassionati di questo sport. Andiamo a Senigallia, a spiaggia di Velluto, che cosa ci propone? Ragazzini equilibristi rischiano la vita, i genitori, noi non abbiamo tempo, selfie su scogliere e acrobati sul faro, il comandante del porto allerta le famiglie che però gli voltano un po' le spalle, gli dicono non abbiamo tempo per seguire i ragazzi, va bene, la Guardia Costiera monitora l'area con telecamere e interviene subito, spesso invitiamo i giovani a scendere per evitare il peggio, lo dice Cristoforo De Giuseppe, il comandante dell'ufficio marittimo di Senigallia, quindi cronaca nella pagina di Senigallia. Vi porto nel resto del Carlino la pagina di apertura che con una fotonotizia sceglie un argomento anche di carattere nazionale, è allarme morbillo, si incrementano i casi, sono più che triplicati a livello nazionale, i nostri medici segnalano il pericolo di contagio, vista le epidemie nella città abruzzese, che il numero dei vaccini sotto soglia di numero, appeso il numero dei vaccinati è sotto la soglia di sicurezza, ma questo l'avevamo detto più di una volta e quindi come calano, come si abbassano le difese e insomma le coperture vaccinali, le patologie e le malattie si riaffacciano, l'autista perseguita l'impiegata, anche qui stalking e telefonate e scritte, poi in testa di pagina l'evaso di Sasso Corvaro è stato beccato in una notte hard in un hotel a 5 stelle, aveva incendiato i locali a Fano, e poi sabbie mobili, pompieri salvano un setter, questa dopo ve la faccio vedere, perché insomma è una bella pagina, è una cosa andata a finire bene, ecco qui le scritte offensive sui muri, denunciato per stalking, aveva addirittura tagliato le gomme della sua vettura, senza tregua per gli inquirenti di fronte alle persecuzioni, occorre presentare subito una denuncia, guardate questa foto, molto eloquente, attenti all'epidemia di Pescara, in pericolo gli adulti tra i 20 e i 40 anni, la città abruzzese a febbraio è scoppiato un focolaio, e Pesaro è sulla direttrice, dicevamo pochi vaccini, pochi vaccini dal Dipartimento di Prevenzione e Salute, dell'Asole è sempre stato dato, questo dato così allarmante, a Pesaro pochi vaccini, siamo solo al 72% lontani dalle cifre di Fano, che si attesta però sugli 85%, Urbino sull'89%, quindi insomma questo è un dato che lascia pensare, e qui dice un pediatra, basta un solo contagio con uno dei nostri giovani non vaccinati, perché creare potenziale allarme. Ancora dalle pagine del resto del Carlino, siamo a Fano, per una vicenda alquanto sgredevole, un cliente di Pedini, un'azienda di cucine perde l'aereo, per colpa del taxi da terzo mondo, questo è il virgolettato, quindi sarà la considerazione del malcapitato, la categoria insorge, e intanto però, la categoria dei tassisti insorge, però intanto l'industriale è costretto a risarcire, rimborsato un biglietto da 2.800 euro, e ecco qua, nell'altra pagina di Fano, si riporta il caso della polizza cinese, e la Duomo dice, chiariremo, mercoledì incontro a Fano, noi parte l'ESA, ci siamo tutelati legalmente, Aset entrate, dice l'amministratore Scavolini, non ci sono mai stati pericoli, però per il comune, giallo sulla fideiussione, parla l'amministratore delegato, Cassani, su questo argomento, e eccolo qua, vi lascio con questa bella notizia, i pompieri, i vigili del fuoco, in azione per salvare, li vedete qui nella foto con l'animale, e la squadra di recupero, le fasi di salvataggio di Zara, da parte dei vigili del fuoco, strappato alla morte, era nelle sabbie mobili del lago, siamo a Schieti, e decisivo, l'intervento dei vigili del fuoco, per appunto, salvargli la vita, bene, questo è tutto, è l'ultima pagina che vi mostravo, per questa rassegna stampa, del sabato mattina, grazie per essere stati con noi, Occhio ai giornali, torna lunedì mattina, alle 7.30, puntualmente, come ogni giorno, grazie e buon fine settimana a tutti.